Salve a tutti e benvenuti in un video ASMR, oggi cercherò di farvi rilassare, quindi mettetevi in un posto comodo, rilassatevi, buonanotte, buonanotte. Buonanotte, rilassatevi, mettetevi in un posto comodo. Buonanotte. 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 Sogni d'oro. Buonanotte. Sogni d'oro. Rilassati. Rilassati. Buonanotte. Sogni d'oro. Sogni d'oro. Sogni d'oro. rilassati, mettiti in un posto comodo buonanotte 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 e sogni d'oro buona notte 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 e sogni d'oro shhh 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 Buona notte Rilassati Mettiti in un posto comodo Rilassati Rilassati Buona notte Buona notte Buona notte Sogni d'oro Buona notte Buona notte Buona notte Buona notte Buona notte Sogni d'oro Sogni d'oro Buona notte Buona notte Grazie.